Dichiaro che questo è un provvedimento ingiusto e che adesso la parola passerà agli avvocati e dopo il tempo è onesto e dirà chi ha ragione. Concede poche parole l'imprenditore Paolo Fassa, storico titolare dell'azienda trevigiana di Calcestruzzi, patron dell'omonima squadra di ciclismo indagato per frode fiscale e autoriciclaggio in un'inchiesta dei PM milanesi Paolo Storari e Giordano Baggio. I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito il sequestro preventivo emesso dalla Procura della Repubblica Milanese di uno yacht di lusso, ormeggiato al porto di Genova e battente bandiera britannica, oltre a un milione e mezzo di euro circa depositati sui conti correnti societari e personali nei confronti dell'imprenditore. Le indagini, grazie ad un'attività in cui la Guardia di Finanza ha lavorato in tandem con l'Agenzia delle Entrate, hanno fatto emergere un complesso meccanismo di frode fiscale che sarebbe stato posto in essere mediante il ricorso a false fatturazioni di prestazioni pubblicitarie e funzionale alla Commissione di Condotte di Autoriciclaggio attraverso l'interposizione di società straniere. Nel corso delle attività sarebbe emerso che gli indagati, grazie alla complicità di un sodalizio composto da professionisti ed altri imprenditori italiani ed esteri, avrebbero impiegato somme di denaro, provento di frode fiscale, veicolandole verso società offshore con sede in Croazia, Svizzera, Principato di Monaco e Panama, funzionali all'acquisto e alla gestione dell'imbarcazione. Le indagini avrebbero consentito di accertare la titolarità effettiva del mega yacht in capo a fassa e di dimostrare la sproporzione tra i redditi dichiarati negli ultimi 15 anni e i costi sostenuti per l'acquisto e la gestione dell'imbarcazione nello stesso arco temporale pari a 30 milioni di euro.